Buonasera, ben ritrovati. Noi che ormai abbiamo una certa età ricordiamo il calcio di altri tempi e mi va di raccontarvi una storiella per agganciarci al Napoli di oggi. Nel calcio è stata famosa un po' una storia cosiddetta maledetta, la maledizione di Spartaco fu definita. Chi era? Non parlo di Spartaco ovviamente, il gladiatore romano, ma parlo di un calciatore che si amava Spartaco ed era Spartacolandini. Spartacolandini era un terzino che ebbe la fortuna di giocare nella grande Inter di Elenio Herrera ed era la riserva di Tarcisio Burnic, detto La Roccia, uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano. C'è una particolarità che lega questi due giocatori, perché Tarcisio Burnic nelle grandi disfatte del calcio italiano non ha mai partecipato per sorte o per avventura. era il titolare della nazionale del 66 in Inghilterra quando a Middlesbrough la Corea del Nord con l'odonto tecnico cosiddetto dentista Pac Doik fece fuori l'Italia inopinatamente, quella che fu definita la valcareggio osservatore del momento per Edmondo Fabri, Ridolini. I Ridolini ci batterono, Ridolini era una figura televisiva, una macchietta televisiva. Quel giorno al posto di Burnic giocò Spartacolandini. Così come Burnic non partecipò alla disfatta nel 74 contro la Polonia, quando si infortunò uscì, entrò Pinotto, Wilson e l'Italia perse. Ma Napoli comprò Burnic a fine carriera. Il grande Vinicio, col suo Napoli più spumeggiante di sempre, perfino più bello di quello di Maradona da un punto di vista estetico, decise di mettere nel cuore della difesa, in linea all'olandese, il vecchio Burnic, che aveva ancora gambe, velocità e testa per giocare ad alti livelli. Ma il Napoli ebbe l'avventura e l'idea di comprarsi la sua storica riserva, Spartacolandini. Napoli giocò una partita pazzesca a Ostrava, in Coppa UEFA, contro il Banic, nel fango, una partita dove cercò di rimontare una situazione ormai compromessa a San Paolo. Arrivarono stremati dopo quella gara, addirittura ci fu un volo dove il Napoli rischiò di non atterrare, si spaventarono tutti. Burnic la domenica contro la Juve non giocò. E Vinicio, contrariamente a quello che il mio amico Rosario Rivellino gli suggeriva, di non fare, fece giocare Spartacolandini. Tutti ricorderanno quelli in fausta partita che finì 6-2. Perché cito Landini? Perché Landini è uno di quei giocatori sopravvalutati, fortunati nella vita, che poi chi faceva parte del gruppo della grande difesa dell'Inter, era convocato anche in nazionale. Veniva considerato uno della grande difesa dell'Inter e quindi ha avuto la possibilità di vincere tanti trofei. A me è ricordato la sindrome di Spartaco un giocatore che a Napoli furoreggia in negativo. Si chiama Raul Albiol. Questo ha vinto Coppa Europa, Coppa del Mondo. Ha giocato, ha giocato, ha visto vincere i suoi compagni della Spagna perché non ha giocato neanche un minuto tra campionato europeo e campionato del mondo. Era riserva nel Real Madrid dove giocò ben 9 partite l'anno prima che il Napoli lo prendesse. Aveva fatto due bei campionati da giovane col Valencia, poi era andato al Madrid dove non aveva trovato il posto di tolare e però veniva preso a pacchetto e lanciato nel grande agone internazionale. È arrivato a Napoli con i galloni di grande giocatore. Il Napoli per lui ha speso 12 milioni di euro, gli ha dato un ingaggio da 2 milioni e 100, buttando come uno scarpone vecchio, trattandolo letteralmente male, il suo capitano Paolo Cannavaro, onesto prestipedatore come direbbe Gianni Brera, che aveva dato tanto alla sua squadra in 7 anni, che non era un fuoriclasse come il fratello, ma che sicuramente aveva fatto bene. Oggi vediamo ancora, a 34 anni, cavarsela benissimo in un sassuolo che sta facendo un buon torneo, il nostro Paolo Cannavaro, sostituito da uno che invece, e signori diciamolo chiaro, si sta rivelando il problema numero uno di questo Napoli che dopo due anni negativi con Benitez avrebbe dovuto sostituirlo quest'estate. E allora io non me la voglio prendere con Benitez che ha portato questo pacco a Napoli, perché io tale l'ho definito e lo ribadisco, perché ha portato pure Reina, ha portato pure Cagliecon, ha convinto Higuain, la PIL di Benitez è stata importante per convincere Higuain a venire a Napoli, bisogna dire quello e anche quell'altro, ma la società sapeva che aveva un problema in difesa. Non può essere che il Napoli di Sarri, in tre partite, prende sei gol e sei volte coinvolto al Biol nei gol che prende. Allora qui arrivo al problema Sarri. Oggi tutti vogliono già la testa di Sarri, sento commenti pazzeschi. Io dico invece che bisogna avere pazienza perché i progetti non si uccidono all'alba, il Napoli ha fatto solo due punti, è vero, però già per esempio la scommessa in signe trequartista magari la sta cominciando a vincere Sarri. Già oggi ho visto in Sarri un passaggio in più, quando è uscito in signe è passato dal 4-3-1-2 al 4-3-3, mostrando di non essere abbarbicato a un'unica idea, come faceva il maestro Benitez, da cui è lontano anni luce, per esempio in termini di comunicazione. Deve imparare ancora moltissimo Sarri, che ha una dimensione molto più provinciale rispetto ad un uomo internazionale come Rafa Benitez. Però oggi ho visto già che Sarri è pronto a modificare il sistema di gioco e Sarri oggi ha cercato di far giocare Gabbiadini nel ruolo che più gli aggrada e gli piace e più è adatto alle sue caratteristiche, è da punta centrale. E Gabbiadini ha risposto con un assist sontuoso per Alland. Insomma, io non butterei il bambino con tutti i panni per il solo fatto che c'è stata una partenza a Fasulla. Direi di aspettare di avere pazienza e tutti coloro che stanno ancora già dicendo via Sarri, cacciate Sarri. Io dico, signori, ma se fra tre settimane Napoli fa un bel filotto con Lazio Sassuolo e batte la Juve, poi avete già preparato i carri di Mergellina per fare piedi grotta? Gli stessi che oggi chiedete la testa da forcaioli quali siete? Calma e gesto. Napoli purtroppo paga sempre questo modo ondivaco di esaltarsi e deprimersi in una maniera feroce. Bisogna avere pazienza e dare tempo a questo tecnico di portare avanti le sue idee e di dargli la possibilità di esprimerle sul campo. Poi, se avrà fallito, pagherà in prima persona. Ha un anno di contratto, si gioca la scommessa della vita. Il Napoli non ha da chiedere al campionato più che al massimo un terzo posto visto che la società ha volato basso e non ha voluto puntare a uno scudetto possibile perché quest'anno non ci sono più padroni e la Juve lo dimostra. Colpevolmente la società non ha voluto prendere i difensori che servivano. Colpevolmente la società si è tenuta il problema al Bion che oggi continua a pagare. Allora, Sari, io ti do un solo consiglio. Prima che cacciano te, fai pulizia tu in questa squadra, fai come fece Marcello Lippi il quale fece fuori Nela e Policano, due senatori, mise dentro Fabio Cannavaro e Fabio Pecchia e via e volò alto e fece un gran campionato. Prima che ti fanno fuori, sei tu quello che dimostra di avere in pugno la situazione. Chiudo con una chiosa. A prescrizione, mia bella prescrizione. Che cos'è questa parola? La parola magica che oggi salva in Italia tanta gente è un assunto del diritto importante perché nessuno può essere sotto processo a tempo indefinito. intendiamoci, è un pilone di una democrazia occidentale, giusto? Ma basta avere buoni avvocati, bravi, che sanno usare tattiche dilatorie e se sei colpevole ne esci indenne perché ti salva la prescrizione. Caro Moggi, ce l'hai fatta anche stavolta, ma la Cassazione ti incastra alle tue responsabilità di un uomo che ha rovinato il calcio insieme a tante altre persone e di cui sei il capo bastione perché la Cassazione ha detto chiaramente quello che hai fatto, che non è comprarsi le partite, non è il calcio scommese, sia chiaro, ma orientare, organizzare ai fini che non sono di uno sport limpido e pulito ma di uno sport asservito al potere di cui sei stato uno dei massimi rappresentanti perché hanno permesso a te di fare questo coloro che sono condiventi con te, cioè il sistema politico e di potere calcistico. Moggi, beviti la tua prescrizione con un calice di prosecco perché ormai in questo paese senza vergogna essere prescritti non è un problema, anzi è un vanto. Grazie, ho finito.